Appunto quando ho poi querelato due mesi fa quelli che così come niente e poi si dice no ma vai da Romano, ma Romano ha cani che non sono di razza e li vende senza petiglie e un bel momento facendo vedere questa situazione all'avvocato ho dovuto anche spendere i soldi e adesso ho querelato due persone. Ma l'avvocato mi ha anche detto per non doverne querelare altri in buona fede e faccia comunque un video dove spiega nei dettagli pubblicamente tutte queste cose e allora ve l'ho fatto anche in sua presenza che lei si è stancata e si è stufata magari mi siete stufati anche voi. Quindi avevo l'interesse di fare questo video che lo vedrete 5 o 6 minuti l'avete visto 5 o 6 minuti per volta, sono arrivati un po' al termine quelli che interessava un po' questa cosa perché ci sono persone come nel Milan e nell'Inter, non interessa, dice a me non interessa quanto gioca bene il Milan io sono dell'Inter, lo demonizzerò sempre, se vince per dire il Milan dico che per fare due squadre a caso io non sono tifoso di calcio, che è stato favorevole l'arbitro, è stata la fortuna, eccetera. Allora se nella cinofilia noi vogliamo essere così, tutte queste parole sono inutili, ma se io le ho rivolte a persone senzienti persone che di animali hanno avuti, persone che hanno avuto il bestiame, persone che... insomma se trovate logico questo mio discorso, da domani incominciate a diffondere, incominciate a spiegare anche voi agli amici la differenza che c'è da un pastore dell'Agia Centrale, vero, che è quello come dire che è cresciuto nei greggi, che è predisposto come avete visto adesso a lavorare nelle greggi che io lo do da vent'anni ai pastori che lavorano nelle greggi, io vi ho messo tanti video e tante altre cose. Da quello che può essere una derivazione di questo, io accetto la derivazione si dovrebbero chiamare in modi diversi, è ovvio che dover confrontare un maschio come Bruce Lee che non arriva a 50 kg e 45, forse sarà 45 kg, non so 50 kg, un alto di 100 kg faccia più effetto l'altro, sia più facile credere che ne uno scontro vinca l'altro, bisognerebbe vedere questa cosa, cosa che io non voglio, perché non mi occupo sicuramente di fare i combattimenti con i cani, ma se noi pensiamo se Bruce Lee se la caverebbe meglio in Asia Centrale, se la caverebbe meglio in quei popoli, se la caverebbe meglio contro i predatori, se la caverebbe meglio sopravvivendo, dovendo cacciare eccetera, rispetto all'altro 100 kg se avete un minimo di nozioni di agraria, di zoologia, di biologia, di etologia, e lo capite anche voi, quindi è facile capire qual è l'autentico pastore dell'Asia Centrale, qual è il motivo che io non l'ho mai cambiato, qual è che avendo visitato l'Asia Centrale a un certo punto non ho mai detto ok, sono tutte le tre tipologie, ma non mi sono mai interessate le altre due tipologie che sono una cattiva derivazione da queste, di questi leggeri, ecco questo è il motivo che mi gonfiate i coglioni quando non sapete niente di questi cani, dici ma come mai il tuo più piccolo, no ma il tuo piccolo così non è un'Asia Centrale, purtroppo non funziona così, ed era una buona occasione venire in viaggio, spendere un po' di quattrini, perché vedete c'è questa cosa che sui social va tanto di moda, le parole non costano nulla, il lavoro costa fatica e investimenti, ed è per quello che c'è uno che fa una pagina e racconta, e su questa ad esempio del pastore dell'Asia ci sono 120 mila persone che la seguono e tante volte, non so, ce ne 50 mila che non capiscono, vorrebbe che glielo spiegassi anche gratis, e si dimenticano che io faccio il cinofilo di mestiere e loro non vogliono investire niente, perché avevo detto parole da scrivere, tutto gratis, studiare costa già, bisogna comprare almeno i videocorsi, bisogna fare delle esperienze, comprare dei cani, capire tutta una serie, però è una cosa che questo punto ve lo devo raccontare, in una razza dove essendo metice è facile dire no, quel colore lì non è vero perché loro non l'hanno mai vista, non ci sono i tigrati perché non l'hanno mai vista, quella testa lì non esiste, non l'hanno mai vista, ma quella ha la coda troppo lunga, certo, gli avete sempre visti coda tagliata, in teoria non dovrebbero più esserci in Europa, ma ci sono ancora, perché le vie del Signore sono infinite, è ovvio che è molto più facile su un muso più sottile, che è quello funzionale per vivere in quelle zone, per tutte le cose che vi ho detto, è molto più bello vedere magari esteticamente se non ha le orecchie, perché come gli metti le orecchie, come a tanti cani, li snatura, ma siccome io sono uno che ha sempre seguito la legge, ho deciso di mia spontanea volontà di vivere in Italia, in Italia c'è questa legge, io la rispetto, la sua orecchie, la sua coda eccetera, ma poi tra l'altro ormai da tanti anni, ben si potesse ritornare non ritornerai perché ho capito l'importanza della coda, ho capito quante bugie si dicevano sulle orecchie, per capire le bugie sulle orecchie basta andare in Mongolia, i bancar, che non ce n'è uno con le orecchie tagliate, sono cani, guardate, in certi casi superiori addirittura ai pastori dell'agia centrale, non si può generalizzare, ma i soggetti che ho visto in Mongolia non scherzano per niente, e ci sono tante altre razze dove fanno i pascoli, fanno di tutto e hanno orecchie, a volte litigano, se le strappano, ma quello non è un buon motivo per amputare le orecchie a tutti, solo per una questione estetica, cosa che invece si continua a fare. Bene, spero di avervi dato queste informazioni che mi siano interessate, le mosche mi hanno dato un po' fastidio, ma in compenso le zanzare non mi hanno morsicato, e non so se riesco a chiamarli un momento, eccole qua che arrivano, i monelli, e ve l'ho voluto proprio fare con questi cani, perché queste sono le tipologie di pastore dell'agia centrale che ho sempre voluto, che sempre vorrò, e sono quelle che mi hanno fatto innamorare della razza. Tutto il resto che a volte mi fate vedere voi, con tutto rispetto, perché io non metto mai i commenti sotto le vostre, ma non le vorrei neanche me li regalarseli, invece per ottenere questi, nella mia vita ho speso dei patrimoni, sia studiarli, sia per ottenere poi questi risultati, che non avendo mai seguito l'estetica.